...tutte io, o qualcosa del genere, o un manichini che volano così, dovete stare zitti e se chiusa adesso... ...adesso ripresenteremo due ospiti ...silenzio 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, sì, io faccio un po' qui. Aspetta, fai questo salsio. Adesso si passa alla spazio. Avvicina. Adesso passiamo al quarto.